Sono contentissimo, infatti, è mancato un sacco il campo, stare con i ragazzi e quindi, ripeto, sono molto contento, spero che si veda. Per me è un'annata molto importante in una piazza così, hai parlato di emozioni, è proprio questo quello che uno prova quando gioca davanti a questa gente, anche solo per un amichevole. Ci fanno sentire sempre il loro calore, poi stare qui in questa squadra mi rende felice, quindi veramente sono stati dei giorni duri in cui sono stato lontano dalla squadra, però adesso che sono rientrato spero di dare veramente il 100%, darò il 100% per questa maglia. Tantissima, perché già dopo un bel ritiro che stavo facendo mi sto iniziando a sentire bene, purtroppo questo problema al ginocchio mi ha fermato per un po', quindi vedere anche i miei compagni che facevano fatica, io non potevo fare fatica insieme a loro, mi faceva male. Poi questo problema non trovava la soluzione, quindi abbiamo optato per questa scelta, di andare fuori un attimo. L'importante è che adesso sto bene, mi hanno dato tutti una mano, compagni, staff, il mister, e adesso sono qui con loro e siamo pronti a fare la guerra a tutti. Grazie a tutti.